Salve, sono Bruno Denisco, ingegnere con studio di progettazione a Pescara e faccio parte della giuria del premio di domotica e delle energie rinnovabili edizione 2012. Sono qui per parlarvi e illustrarvi l'andamento del premio di quest'anno. Parlando del premio di domotica e delle energie rinnovabili si deve innanzitutto dire che è diventato un premio a carattere nazionale, quindi è coinvolto non solo quella della regione Emilia-Romagna ma un po' tutto quanto il territorio italiano. Naturalmente i partecipanti a questo premio hanno presentato progetti che differiscono molto tra di loro ma dai quali si capisce chiaramente lo stato dell'arte attualmente nelle varie regioni d'Italia. Questa integrazione tra domotica e energie rinnovabili ma anche tra la parte passiva e la parte attiva e quindi impiantistica degli edifici credo che sia a un livello molto avanzato che permette realmente di utilizzare davvero basse quantità di energia e fonti energetiche efficienti e soprattutto utilizzare anche la domotica per ottimizzare e migliorare ancora quella che è l'efficienza e la gestione in generale del sistema.